Salve a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Mirko e questo è un nuovo video. Nel video di oggi, come vedete dal titolo, andremo a parlare di alcune delle mie ultime letture. Sto leggendo parecchio, in questi ultimi mesi ho accumulato effettivamente diverse cose di cui parlarvi e come sempre, per prendermi il più tempo possibile e non far durare questi video, ultime letture, un'eternità, vi parlerò solamente di alcune di queste ultime letture e poi prossimamente arriverà anche la seconda parte di questo video. E in particolare, in maniera del tutto casuale, in verità, ci focalizzeremo su diverse uscite young adult che sono arrivate in Italia in questi ultimi mesi che mi interessavano e per cui mi sono ritrovato a leggere. Effettivamente in questi ultimi mesi ho letto tanti, tanti, tanti young adult e infatti questo, ecco, mi ha provato ed è stabilizzato parecchio e in questo periodo sto cercando un attimo di disintossicarmi. Non perché queste letture, di cui tra poco appunto parleremo, non mi siano piaciute, anzi, devo dire che comunque ho trovato in alcune di loro diverse soddisfazioni, ho avuto comunque modo di divertirmi durante la lettura e comunque sono state più o meno tutte esperienze piacevoli, però devo dire che aver letto così tanti young adult uno dietro l'altro mi ha provato parecchio. Detto questo, io direi di cominciare immediatamente il video senza perderci in ulteriori chiacchiere. Come sempre, non ci saranno spoiler, ma sono semplicemente mie pareri personali, del tutto soggettivi, che magari possono aiutarvi un po' nella scelta della vostra prossima lettura e in qualche modo orientarvi su cosa troverete o meno all'interno di suddetto libro. Come sempre appunto sono parelli del tutto soggettivi e personali, quindi se a me un libro non è piaciuto e a voi invece sì, l'avete totalmente amato, non siete voi nel torto, ma sono come sempre appunto parelli del tutto soggettivi, lo ripeto. E quindi partiamo! E cominciamo con una delle ultime novità nel panorama young adult che sicuramente erano tra le più attese in Italia, all'estero ormai è uscito diverso tempo fa e questo era uno degli young adult che mi avevano incuriosito di più perché diciamo che il concept del libro, che comunque non è niente di innovativo e nuovo, ma anzi nel panorama adult fantasy è qualcosa a cui mi sono già approcciato, però devo dire che comunque c'erano determinati elementi che mi affascinavano e che mi avevano in qualche modo incuriosito. È arrivato, come vi dicevo, recentemente in Italia grazie a Sperling e sto parlando di The Prison Healer di Lynette Noni, primo libro di una trilogia fantasy, ovviamente young adult, che si concentra molto sull'aspetto romance, ma comunque devo dire l'ho trovato anche piuttosto bilanciato in qualche modo, mi aspettavo sicuramente qualcosa di molto molto più preponderante, invece non è stato esattamente così, nonostante l'aspetto, appunto, romance del libro è qualcosa di fondamentale per la storia. Detto questo, nonostante provassi un genuino interesse nei confronti di The Prison Healer, ero anche del tutto certo che fosse una lettura da cui non mi sarei mai sentito coinvolto al 100% e invece devo dire che non è stato del tutto così, anzi l'ho trovata da una parte una lettura molto coinvolgente, una lettura che ho trovato piuttosto funzionale, ci sono delle dinamiche che comunque mi hanno piuttosto intrigato e che funzionano all'interno del libro, dall'altra parte però ci sono tanti aspetti nella storia che invece ho trovato davvero molto molto deludenti e anche piuttosto deboli, tra cui il finale per cui l'autrice opta, diciamo, per appunto anche in questo caso una dinamica che io non apprezzo moltissimo perché è una dinamica che all'interno del libro, in tutto il libro, non ha delle fondamenta che in qualche modo lo vadano a giustificare al 100%, ma non approfondirò più del necessario perché potrebbe essere spoiler, comunque ci ritorniamo tra poco. Prima di tutto, Di che cosa parla The Prison Healer in brevissimo? Il romanzo segue le vicende di Kiva, una ragazza di 17 anni che è la guaritrice di Zalindov, queste prigioni che sono un luogo ameno, un luogo piuttosto crudele, dove i prigionieri all'interno appunto cercano in tutti i modi di sopravvivere a queste punizioni davvero perfide e letali. Kiva, fin dalla tenera età, si trova all'interno di queste prigioni ed è stata indottrinata dal suo padre nelle arti curative. Questo le ha permesso di ottenere il ruolo di guaritrice all'interno delle prigioni di Zalindov e di conseguenza le permette anche, in quanto guaritrice, di vivere all'interno di queste prigioni con una parvenza di sicurezza, ma allo stesso tempo tutti i prigionieri la reputano una traditrice. Ovviamente però, nonostante il ruolo che Kiva ricopre all'interno di questa prigione, anche lei, come tutti gli altri prigionieri, cerca di sopravvivere e l'unico barlume di speranza è la promessa che è stata fatta dalla sua famiglia che prima o poi arriverà a salvarla. Tutto cambia però quando un giorno nell'infermeria della prigione succede qualcosa di inaspettato. Infatti ad attendere Kiva nell'infermeria c'è la regina ribelle che si trova prigioniera, appunto è stata catturata e diciamo che e con la regina è arrivato anche un messaggio, un messaggio da parte dei ribelli che chiedono a Kiva di mantenere in vita la regina fino al loro arrivo. Per questo Kiva dovrà prendersi cura della regina e soprattutto prendere il suo posto nel giudizio degli elementi, ovvero una serie di quattro prove che hanno a che fare con i quattro elementi aria, acqua, terra e fuoco da cui è impossibile sopravvivere. Ma come se tutto questo non fosse già sufficiente, nella prigione arriva un nuovo detenuto con cui Kiva intreccerà un rapporto molto stretto e particolare e soprattutto dovrà indagare, dovrà capire che cosa sta succedendo nella prigione perché una strana malattia si sta diffondendo e sta uccidendo ovviamente di conseguenza tutti i prigionieri e Kiva deve cercare una cura e soprattutto la causa di questa malattia. E queste diciamo sono un po' le premesse di base di The Prison Healer. Come capirete di carne al fuoco ce n'è davvero davvero tantissima, le trame che si aprono sono davvero tante e forse il grande problema, il problema principale di The Prison Healer oltre ai tanti che si nascondono tra le pagine di questa storia è proprio questo, che di carne al fuoco ce n'è tanta e l'autrice non è semplicemente in grado di gestire tutto quello che vuole appunto servire in qualche modo al lettore. Qualcosa viene lasciato appunto indietro concentrandosi su altro ma all'apparenza appunto tutto quello che viene inserito tutte le trame sotto trame che l'autrice cerca di portare avanti sostanzialmente si riducono ad un pugno di mosche. Partiamo però dalle basi, i personaggi principali. I personaggi in qualche modo potrebbero essere anche interessanti. Il grande problema è forse rappresentato da Kiva stessa che purtroppo per quanto mi riguarda è un grande cliché vivente. È il classico personaggio che vuole dare tutta se stessa per riuscire in qualche modo a salvare più persone possibili. È una persona che in qualche modo si dimostra intelligente ma allo stesso tempo ingenua. È un personaggio che non ha risuonato moltissimo per quanto mi riguarda e con cui non ho avuto un bodding immediato. Dall'altra parte non è un personaggio terribile quindi è un personaggio che si lascia seguire con una certa piacevolezza ma comunque non rimane impresso e secondo me non è estremamente interessante. I personaggi secondari sono della stessa risma di Kiva in qualche modo tutti soffrono di profondi cliché e stereotipi e nessuno in qualche modo riesce veramente a rimanere impresso. Sono tutti personaggi piacevoli che però non riescono a fare il passo successivo. Poi abbiamo l'ambientazione l'ambientazione ovviamente è questa grandissima prigione che tra l'altro abbiamo anche rappresentata nella mappa principale del libro ci sono due mappe questa appunto è la mappa della prigione di Zalindorf e questa è la mappa del continente non ci servirà niente almeno in questo primo libro questa è una mappa un bel disegno ma nient'altro perché nella storia di contenuto ce n'è poco ma il problema è che per quanto riguarda il world building che l'autrice riesce cerca anzi di raccontarci in questo primo libro che ovviamente si rifà al contesto della prigione secondo me non è riuscito perché questa prigione che ci viene raccontata così tanto in grande e che ci viene appunto anche fatta vedere graficamente così tanto basta sembra in qualche modo di girare intorno alla stessa piazza non c'è respiro non c'è in qualche modo un approfondimento e una ricerca del dettaglio che vada davvero a raccontarci questo luogo ameno questo luogo soffocante claustrofobico che Kiva e tutti i prigionieri sono costretti giorno dopo giorno ad affrontare a cercare di sopravvivere con tutte le loro forze le prigioni di Zalvindov secondo me sono concettualmente qualcosa che funziona ma che poi nella pratica nell'esecuzione invece rimangono un po' fine a se stesse non so il world building non è qualcosa che secondo me riesce ad impattare nella storia ed è un peccato perché comunque tutto il world building in questo primo libro si concentra sulla prigione di Zalvindov e questo secondo me è uno degli aspetti che devo dire avrei preferito vedere in qualche modo esplorato di più cioè il concentrarsi sul world building e dargli il giusto equilibrio e il giusto spotlight secondo me avrebbe reso questo libro davvero molto molto più interessante invece tutto troppo lasciato indietro per dare spazio invece a tante cose che forse potevano essere raccontate in maniera del tutto marginale come gli stessi rapporti tra i personaggi che ok però secondo me viene dato troppo spazio a questo piuttosto che concentrarsi su altri aspetti del libro come il giudizio dei quattro elementi che è forse una delle cose che ho trovato più deludenti perché queste prove sono sostanzialmente poco accattivanti mi aspettavo forse tanto da questo cioè io credevo che comunque queste quattro prove fossero davvero alla base di questo libro invece no vengono raccontate in un capitolo e poi si passa successivamente a tutt'altro e anche qua secondo me l'autrice non va mai a spiegare fino in fondo queste quattro prove non si percepisce mai quanto queste prove mettono veramente a repentaglio la vita di Kiva nonostante poi il modo magari con cui vengono affrontate forse è stata la maniera più intelligente di farlo però allo stesso tempo mi aspettavo davvero un succo diverso nella storia del giudizio degli elementi e invece purtroppo questa ecco diciamo che queste prove vengono raccontate il giusto ed è un grande peccato per quanto mi riguarda ma che cosa fa quindi l'autrice se non si sofferma su tutte queste cose si sofferma tanto sulla parte romance che come vi dicevo inizialmente è equilibrata perché lo è equilibrata diciamo che per metà ci si concentra sul romance e per tutta l'altra metà ci si concentra su tutte le altre cose che l'autrice mette sul fuoco ma che appunto non vengono mai approfondite e questo secondo me come vi dicevo inizialmente è il grande problema del libro il romance l'ho trovato stucchevole in alcuni momenti ma più che stucchevole forse l'ho trovato ripetitivo in tutti i suoi step nell'evoluzione della storia appunto romantica tra i nostri due personaggi principali e poi arriviamo al finale nonostante tutti questi aspetti che io ho trovato comunque poco soddisfacenti mi ero veramente goduto il libro fino a quel momento perché comunque nonostante tutto nonostante l'autrice non vada ad approfondire troppo tutto quello che ci va a raccontare rimane comunque una lettura che riesce ad intrattenerti riesce ad essere coinvolgente desideravo veramente sapere che cosa sarebbe successo dopo desideravo sapere quale sarebbe stata la prossima prova come Kiva l'avrebbe affrontata quale sarebbe stata la prossima prova come appunto le cose sarebbero andate avanti e poi ripeto comunque il libro è aperto tantissime storie in tantissime trame quindi c'è davvero tanto comunque da approfondire quindi fino a quel momento tutte le mie domande erano davvero in qualche modo molto curiose cioè ero davvero affascinato da tutto quello che stava succedendo nonostante trovassi sempre qualcosa da ridire poi arriviamo al finale un finale che presenta diversi plot twist alcuni che vedi arrivare lontano un miglio altri non del tutto ma che puoi aspettarti e altri invece che speri non arrivino e invece arrivano infatti il libro si conclude con questo plot twist che va in qualche modo un po' a rimescolare tutte le carte in tavola e a darti una prospettiva diversa di tutto quello che hai letto in questo primo romanzo e che ovviamente verrà poi approfondito nel secondo volume come dicevo non posso dirvi di più perché è uno di quei plot twist che se dico una parola di troppo capite immediatamente quindi se volete leggere il libro non voglio rovinarvi le esperienze di lettura perché invece magari per voi potrebbe essere qualcosa di entusiasmante per me personalmente non lo è stato l'ho apprezzato come mi sarebbe piaciuto apprezzarlo ma tutto sta a vedere come l'autrice poi gestirà il secondo volume anche se il grande sbaglio secondo me è stato fatto cioè questo è il tipico sbaglio che in questi libri molte volte si fanno si commettono e che io non apprezzo perché difficilmente si riesce a gestire questo tipo di plot twist ripeto non è un discorso che possiamo fare senza spoiler quindi detto questo è una lettura che nonostante tutto io comunque vi consiglio è una lettura estremamente godibile è anche una lettura molto valida in verità gli ho dato 4 stelline nonostante tutti gli aspetti che non ho trovato del tutto appaganti però è una lettura che davvero mi sono goduto mi ha intrattenuto funziona in alcune sue parti in alcune di meno quindi sostanzialmente se cercate un libro del genere quello che vi ho raccontato nella trama se non vi aspettate grandissime cose è un libro che sicuramente potrebbe darvi soddisfazioni soprattutto se siete un po' nuovi secondo me a questo tipo di romanzo e volete approcciarvi The Prison Healer ecco sono sicuro che potrebbe regalarvi da tante cose io che di questi libri non ho letti a valanghe devo dire non ci ho trovato nulla di nuovo però allo stesso tempo me lo sono goduto leggerò sicuramente gli altri libri della trilogia e ora passiamo a una lettura per cui avrei preferito cavarmi gli occhi piuttosto che continuare a leggerla e l'ho fatto ho continuato a leggere e sono arrivato anche alla fine io non so cosa mi abbia spinto a finire questo libro però ce l'ho fatta e sto parlando di una virtù crudele bene ho parlato negli ultimi video come una lettura che ci tenevo davvero a fare perché mi sembrava molto interessante nonostante anche qui la trama è tra le più banali tra le più scontate l'autrice cerca di dare questa parvenza di sofisticato di qualcosa di ricercato mettendoci appunto dei termini che in qualche modo sembrano andare a costruire un world building molto particolare e invece è la solita gagata cioè praticamente è la versione diciamo ancora più brutta di sangue e cenere di jennifer e ralmentrout cioè la trama è identica le dinamiche sono identiche e quindi è inutile leggere questo libro per chi non lo conoscesse una virtù crudele è il primo libro di una dilogia una dilogia fantasy che va a raccontare la storia di Alessa Alessa è la lumera e all'inizio della nostra storia la vediamo affrontare la morte del suo terzo marito perché in quanto appunto l'umera scelta dagli dèi ha il compito a sua volta di scegliere un compagno chiamato Dorgale in modo da amplificare i poteri i doni che gli dèi gli hanno concesso e salvare tutti quanti da questa catastrofe chiamata grande voragino ovvero un'orda di demoni che distruggerà tutta San Saverio però c'è un problema in verità ce ne sono diversi di problemi ma il principale è che Alessa con il suo tocco continua ad uccidere tutti i compagni che si sceglie e questo di conseguenza sta in qualche modo generando del malcontento tra la popolazione che non credono fino in fondo che Alessa sia la prescelta la lumera che gli dèi appunto hanno promesso la salvezza che appunto dovrebbe rappresentare quindi nella speranza di prendere un po' di tempo e di scegliere il dorgale giusto Alessa decide di prendere una guardia del corpo personale e trova la persona perfetta in Dante che tra l'altro ha anche la fama di essere uno spietato assassino e qui arriva un altro dei grandi problemi perché infatti Dante nasconde un segreto che da una parte potrebbe rappresentare un grande problema per Alessa ma dall'altra parte potrebbe anche essere la soluzione a tutto quanto e da qua parte la storia una storia che io ho trovato di una banalità e di una noia allucinante quello che mi ha davvero devastato in questo libro è che l'autrice come vi dicevo inizialmente cerca di costruire un world building sofisticato utilizzando dei termini come appunto lumera dorgale finestra e tra l'altro il world building ha delle reference delle ispirazioni all'Italia infatti in fase di traduzione dall'inglese all'italiano ci sono stati dei cambiamenti importanti perché era impossibile riportare l'inglese del libro all'italiano e renderlo per noi in qualche modo godibile ma non lo è stato a prescindere per cui vabbè lasciando perdere questi aspetti più tecnici come vi dicevo l'autrice cerca in tutti i modi di creare un world building molto sofisticato molto ricercato dandosi davvero un tono mettendo su il piatto comunque una serie di anche intrecci politici che rendono questo libro davvero molto intrecciato molto cervellotico cioè questa è un po' l'impressione che mi ha dato il problema è che è una grande cagata questo è il modo in cui semplicemente tradurrei l'intero libro è una grandissima cagata perché tutto è estremamente banale estremamente ripetitivo è estremamente noioso le cose si fanno di una lungaggine incredibile a un certo punto del libro cioè è così assurdo tutto quello che succede che a un certo punto fa il giro e sei complice di quello che stai leggendo cioè l'ho vissuta in una maniera quasi come un'esperienza estracorporea leggere questo libro non so perché ho avuto questa sensazione e questo approccio al libro però è stato così oltre ovviamente alla forte sensazione di doverlo prendere e bruciarlo da qualche parte perché davvero mi ha snervato i personaggi mi hanno snervato il war building mi ha snervato la storia mi ha snervato cioè è tutto un grande delirio brutto semplicemente personaggi che potevano essere la salvezza del libro soprattutto la nostra protagonista Alessa perché Alessa è un personaggio spregiudicato indispettito indisponente è un personaggio che comunque non è piacevole non vuole essere piacevole e secondo me questo era davvero un tratto distintivo della sua personalità e inizialmente lo stavo apprezzando davvero tantissimo poi però quando l'autrice fa di tutto per calcare questi lati del personaggio diventano davvero ridondanti diventano in qualche modo un po' caricatoriali diventa un po' una macchietta di se stessa e tutti gli personaggi che gli fanno di contorno sono sostanzialmente inutili lo stesso Dante che è copia carbone di qualsiasi uomo nerboruto bello da morire coi pettorali in qualsiasi libro simile a una virtù crudele quindi che cosa dire in più non spenderò altre parole su una virtù crudele perché non ho altre parole da dire come vi dicevo inizialmente è la copia sputata di sangue e cenere cioè poppy e alessa sono lo stesso personaggio sono le prescelte sono le persone che dovranno salvare tutto il mondo da questa grande catastrofe Dante appunto è l'interesse amoroso e non c'è niente di diverso da sangue e cenere anche lo stesso world building diciamo che in qualche modo va un po' a inglobare la stessa essenza cioè è molto simile anche proprio come feeling davvero tremendo cioè piuttosto leggetevi sangue e cenere è meglio ovviamente non ve lo consiglio cioè se volete farvi del male leggetelo tra l'altro ci sono tante persone che l'hanno apprezzato io non capisco che cosa ci abbiano trovato se qualcuno di voi ha letto una virtù crudele vi prego ditemi che cosa avete trovato di coinvolgente e bello all'interno di questo libro perché io davvero ci ho provato con tutto me stesso e anzi inizialmente ero anche molto preso da quello che stava succedendo poi quando ho capito che era una grande supercazzola ho lasciato ogni speranza manco Dante all'inferno tremendo un'esperienza tremenda probabilmente uno dei libri più brutti letti per ora nel 2023 successivamente alla lettura di una virtù crudele in un momento in cui tutto era buio ho visto la luce in fondo al buio e mi sono buttato su una lettura che in qualche modo sapevo che anche se non del tutto in qualche modo mi sarebbe piaciuta e sto parlando di una magia infusa di veleno anche in questo caso stiamo parlando di uno young adult fantasy che si ispira un po' alle atmosfere asiatiche anche se devo essere sincero l'autrice non calca moltissimo questo aspetto all'interno del libro e mi sarebbe piaciuto vederlo molto più preponderante primo libro di una dilogia come vi dicevo uscita recentemente in Italia per Oscar Volt che dalle premesse mi aveva incuriosito non perché la trama fosse qualcosa di necessariamente originale o innovativa ma dall'altra parte c'era qualcosa che aveva una scintilla diversa da tutte quelle che sono le proposte ultimamente nel panorama young adult infatti una magia infusa di veleno racconta la storia di Ning che insieme a tutta la sua famiglia sta cercando di affrontare la perdita di sua madre ma soprattutto Ning la sta affrontando di petto perché si sente in colpa perché è convinta che ad averla uccisa sia stata le stesse attraverso questo tè avvelenato che lei ha preparato e che ha dato a sua madre portandola alla morte il grande problema è che lo stesso tè che ha ucciso sua madre potrebbe portare alla morte di sua sorella Shu e nella speranza di salvare in qualche modo sua sorella Ning decide di partire per la capitale per prendere parte a questa competizione che le permetterebbe di ottenere il ruolo di Shannon C.D. corte ovvero diventare maestra nell'antica arte magica del tempo ma in verità quello che spinge Ning a prendere parte a questa competizione e a vincere soprattutto questa competizione non è tanto il ruolo che otterrebbe ma il fatto che il vincitore di questa competizione oltre al ruolo appunto di cui abbiamo parlato potrà chiedere un desiderio alla principessa e questo desiderio potrebbe essere l'unico modo per riuscire a salvare sua sorella e da qui parte tutta la vicenda che come vi dicevo appunto non rappresenta niente di originale perché di libri in cui una protagonista che si sposta dal suo paesino per andare appunto nella capitale nella corte prendere parte a una competizione eccetera eccetera ne abbiamo viste a bizzeffe ma qui quello che mi incuriosiva era un po' il fatto che l'autrice avesse strutturato il sistema magico intorno al tè all'arte del tè che era una cosa che devo dire mi affascinava mi incuriosiva e volevo vedere come in qualche modo l'avrebbe gestita ora una magia infusa di di veleno sicuramente non è il libro svolta dell'anno è sicuramente una lettura molto piacevole una lettura molto molto valida è una lettura che è quasi priva di sbavature cioè è un po' un compitino per quanto mi riguarda nel panorama young adult che però funziona perché l'autrice secondo me riesce in qualche modo a raccontare una storia molto sentita una storia che ha effettivamente una corposità tutta sua i personaggi sono davvero piacevoli Ning è una protagonista secondo me adorabile è una protagonista che si fa estrema facilità ad apprezzare è bello da è bello seguirla nella sua storia vederla così comunque agguerrita e determinata in quella che è la sua missione ma dall'altra parte ci sono tanti aspetti del personaggio aspetti molto più sensibili molto più fragili che vengono approfonditi che devo dire la rendono comunque un personaggio piuttosto non vorrei dire complesso ma in qualche modo ecco ha una sua personalità un suo carisma un suo carattere che lo contraddistingue e devo dire è davvero molto molto apprezzabile quello che però funziona davvero all'interno di questo libro è la competizione stessa che è un po' alla base della storia l'autrice infatti riesce in qualche modo ad enfatizzare davvero tantissimo questo aspetto del libro andando durante la narrazione a raccontarci tanti aspetti diversi che ci permettono di vedere questa storia da tante prospettive e luce diverse rendendola davvero dinamica nonostante dall'altra parte è un libro che è quasi privo di azione piuttosto è un'azione passiva è un'azione un po' trasportata dalle emozioni dalla sensorialità da questa parvenza di poeticità della storia che ho trovato davvero molto molto apprezzabile ci sono tanti aspetti infatti che l'autrice ci fa notare che ci racconta ci sono intrighi politici intrighi di corte alleanze che la nostra protagonista Ning sarà costretta volentemente comunque a dover in qualche modo instaurare queste alleanze saranno ostacolate da tante cose che succederanno durante la storia quindi diciamo che comunque tutto questo aspetto della competizione in qualche modo rende questo libro davvero qualcosa di fresco qualcosa di davvero molto molto appetibile che mi ha dato tanto e che mi hanno appassionato molto durante tutta la storia in verità il fatto che il sistema magico ruoti intorno alla magia del tè è sicuramente l'aspetto più innovativo del libro devo dire che forse mi aspettavo qualcosa di completamente diverso e quello che mi aspettavo non è poi quello che effettivamente ho trovato all'interno del libro mi aspettavo un sistema magico sicuramente approfondito e raccontato in maniera diversa però il modo in cui l'autrice ha deciso di raccontarci questo sistema magico funziona in virtù del fatto che questa è una storia che davvero si concentra molto sulle emozioni le sensazioni piuttosto che su aspetti di pura azione o di grandi lotte o battaglie eccetera eccetera è un libro che funziona per questo suo lato davvero molto molto emozionale è davvero molto bello seguire tutto l'aspetto della competizione e soprattutto seguirlo dal punto di vista di Ning che è un personaggio che secondo me all'interno di questa storia riesce davvero ad essere molto molto di impatto e ne esce davvero in maniera del tutto positiva poi è anche vero che questo non è un libro perfetto ma anzi in tutto questo che vi ho detto comunque ci sono un po' delle discrepanze che secondo me potevano essere gestite con una cortezza diversa ci sono magari degli aspetti che legano dei fatti che ci vengono raccontati che secondo me si deve un po' chiudere un occhio e far finta di niente però allo stesso tempo per quanto mi riguarda tutto riesce ad funzionare piuttosto bene un altro aspetto che non ho del tutto apprezzato è questa sorta di insta love che si instaura tra Ning e appunto l'interesse amoroso che sulla carta devo essere sincero secondo me hanno una forte chimica ci sono delle scene che ho davvero apprezzato tra di loro ma dall'altra parte invece ci sono tanti aspetti un po' tossici della relazione che non mi hanno entusiasmato ma che potrebbero portare dei risvolti interessanti magari quello che ci ha raccontato quella autrice poi avrà nel secondo e ultimo libro dei risvolti completamente diversi che vanno poi a mettere tutto in una prospettiva appunto altrettanto diversa quindi è un libro che sicuramente ha tanti aspetti positivi tanti aspetti che possiamo definire come negativi ma nel suo complesso è un libro che funziona è un libro del tutto godibile anche in questo caso è un libro che comunque riesce ad essere facilmente divorabile perché comunque anche qua ti mette un po' di curiosità nonostante ci siano delle parti anche piuttosto statiche però ripeto è un libro che funziona è un libro che tra le tante uscite young adult di questo periodo riesce in qualche modo ad avere delle particolarità che comunque riescono davvero a contraddistinguerlo quindi io ve lo consiglio caldamente se cercate appunto anche in questo caso una lettura di puro intrattenimento niente di appunto pretenzioso ma semplicemente una storia estremamente godibile se avete adorato per esempio Spin the Dawn secondo me questo fa un passo successivo è uno step in più rispetto a Spin the Dawn nonostante comunque le storie sono molto simili come vi dicevo in questo romanzo non c'è niente di innovativo se non il sistema magico in alcune sue parti quindi consigliatissimo sono molto curioso di leggere il secondo volume che spero arriverà più presto in Italia molto velocemente l'unica voce fuori dal coro in questo video l'unico libro che non è uno young adult che tra l'altro adesso mi sta venendo dubbio se è una virtù crudella uno young adult o una adult ma credo che sia uno young adult non ricordo comunque terribile lo stesso a prescindere dal target eccetera eccetera e sto parlando di Full Moon di Jim Butcher ovvero il secondo volume della serie The Dresden File che sono contentissimo di aver iniziato perché lo sapete ne abbiamo già parlato c'è una recensione in cui ne parlo più approfonditamente quindi vi consiglio di andare a vedere quella se siete curiosi di conoscere la mia opinione al riguardo senza spoiler quindi tranquillissimi comunque sta di fatto che The Dresden File è una serie urban fantasy per adulti che ho sempre desiderato leggere finalmente arrivate in Italia quindi ovviamente mi sto dando la pazza gioia leggendo questi primi tre romanzi che sono usciti nella versione Drago sono arrivato al secondo volume un secondo volume che da una parte ho trovato sicuramente migliore rispetto al primo ma dall'altra parte anche un grande passo indietro in verità migliore perché l'autore in questo caso inserisce all'interno della storia e nel caso appunto da risolvere perché comunque diciamo che in ogni libro si va ad affrontare un caso diverso in cui il nostro protagonista Henry Dresden va a fare da detective privato in quanto mago e a capire che cosa sta succedendo quindi diciamo che si segue un po' sempre questa linea misteri da giallo soprannaturale e in tutto questo appunto l'autore inserisce all'interno della storia degli elementi che vanno ad ampliare il world building andando comunque a creare una forte struttura che sono sicuro comunque vedremo approfondita e soprattutto raccontata nei volumi successivi per ora questi primi due romanzi mi sembrano molto di rodaggio la lore si va ad ampliare sempre di più però appunto non c'è quell'approfondimento che non immaginavo appunto non speravo ci sarebbe stato in questo secondo volume ma che spero successivamente ci sarà e sono sicuro ci sarà dall'altra parte il caso da risolvere in questo secondo libro che ovviamente come il titolo suggerisce ha a che vedere con i licantropi mutaforma eccetera eccetera devo dire l'ho trovato meno interessante rispetto al primo per tanti motivi diversi soprattutto perché mi è sembrato in alcuni momenti un po' confusionario e devo dire non l'ho apprezzato completamente però comunque me lo sono goduto anche questo secondo libro devo dire l'ho apprezzato nonostante tutti i difetti che si porta avanti dal primo però comunque una bella lettura che vorrò sicuramente approfondire andando a leggere anche il terzo volume che spero di fare al più presto comunque io ve la consiglio se cercate un urban fantasy che è figlio del suo tempo perché è figlio del suo tempo nelle battute nell'ironia è un libro molto macista se vogliamo quindi non è invecchiato perfettamente però comunque secondo me è una lettura che se contestualizzata al periodo in cui è uscito è molto divertente da seguire diciamo che è un po' per me una lettura di comfort che mi piace appunto ogni tanto tirare fuori dal cilindro e andiamo a concludere il video con sicuramente una delle uscite più attese in questa prima parte del 2023 una recentissima uscita all'estero ma anche in Italia sto parlando del nuovo libro ambientato nel mondo di Percy Jackson Luce e Tenebra in Italia pubblicato recentemente appunto da Mondadori nuovo libro di Rick Riordan che va a raccontarci la storia di Nico Di Angelo o meglio non va a raccontarci la sua storia ma è lui il main caratter il personaggio principale che appunto ci accompagnerà in questa nuova storia ambientata nell'universo di Percy Jackson e in questo romanzo che tra l'altro è un altro conclusivo io non mi aspettavo e devo dire che un po' ci sono rimasto male perché Nico Di Angelo se non lo sapete è uno dei miei personaggi preferiti del mondo di Percy Jackson è uno secondo me dei personaggi più interessanti più complessi con più sfumature e secondo me è sempre stato al margine e speravo con tutto me stesso che Rick Riordan decidesse di dargli la giusta visibilità in un romanzo tutto suo in una saga dedicata a Nico Di Angelo purtroppo non è stato così perché è un libro autoconclusivo non sarà una saga però ci accontentiamo anzi forse letto questo primo volume unico volume va bene come autoconclusivo e come vi dicevo Luce e Tenebra continuano direttamente dopo le vicende raccontate nelle sfide di Apollo diciamo che tutti i libri di Percy Jackson comunque vanno letti in quanto saghe una dietro l'altra come sono uscite perché ci sono eventi che in ogni libro comunque vengono ripresi dai libri precedenti qui diciamo che l'evoluzione stessa dei personaggi alcune dinamiche vicende devono essere digerite prima non si può iniziare questo libro così come primo libro nel mondo di Percy Jackson o meglio potete anche farlo ma capirete poco e niente quindi perché farlo ma tornando a noi seguiamo appunto Nico di Angelo successivamente gli eventi raccontati nelle sfide di Apollo in modo particolare nell'ultimo volume in cui Nico è stato sicuramente uno dei personaggi principali insieme ad Apollo stesso e ad accompagnare Nico in questa sua nuova avventura c'è Will il suo fidanzato e verrà ovviamente approfondita la loro storia il loro rapporto verrà approfondito in maniera secondo me non del tutto esaustiva e anche piuttosto superficialmente diversi aspetti del carattere di Nico mi aspettavo sicuramente molto di più sotto questo punto di vista ma va bene così in generale è un libro carino a cui ho dato quattro stelle la sufficienza niente di più questo perché l'ho trovato come vi dicevo anche poco fa un libro per certi versi superficiale superficiale forse non è la parola giusta però che in qualche modo vuol far passare dei messaggi in maniera poco convincente o meglio puntando su una morale che ormai è vecchia e che non ha niente da dire e questo secondo me è un grande peccato perché Nico in quanto personaggio omosessuale all'interno della saga di Percy Jackson e con tutto il background del suo personaggio ecco secondo me era interessante andare ad esplorare in maniera più approfondita e con più carattere tutta questa sua sfera personale e di conseguenza poi il rapporto che intreccia con Will che è un rapporto estremamente positivo cosa che non è scontata però purtroppo l'ho trovato davvero molto scontato in tutto questo non riesce secondo me ad essere minimamente in qualche modo soddisfacente ecco poi è inutile dire che i momenti romantici e di unione tra Nico e Will sono estremamente dolci carini da leggere sono sicuramente molto piacevoli però non è quello che mi aspettavo mi aspettavo una profondità diversa l'ho trovato un libro privo di una vera anima cosa che invece si riscontra negli altri libri di Percy Jackson c'è sempre secondo me un carisma molto forte nelle storie di Rick Rae Jordan che secondo me è quello che l'hanno portato poi al grande successo cioè nella loro semplicità tutti i personaggi di Rick Rae Jordan tutte le avventure e tutti i background di questi personaggi riescono ad essere carismatici Nico stesso è un personaggio carismatico per quanto mi riguarda ma in questo libro secondo me si è fatto uno sforzo poco convincente e poco soddisfacente ripeto lettura carina mi è fatto piacere difficilmente credo mi approccerò ad altro nel mondo di Percy Jackson perché ovviamente è un middle grade quindi ancora più degli young adult è un libro molto lontano da me come lettore oggi sono affezionato al mondo di Percy Jackson sono affezionato a Nico ed è l'unico motivo per cui ho letto questo libro ma ora come ora è un mondo molto lontano da me che faccio difficoltà a leggere anche nell'ironia che ho sempre apprezzato di Rick Raordan è un'ironia che ora non sento più mia in qualche modo nonostante credo che invece potrebbe funzionare ancora benissimo per il target per cui questo libro è rivolto poi non considerando il fatto che secondo me c'è anche poco sforzo nel raccontare una vera e propria trama all'interno di questo libro nel senso che le dinamiche sono le stesse a cui siamo abituati c'è una profezia c'è un gruppo di personaggi che deve affrontare una missione parte la missione vediamo questi personaggi difficoltà e poi c'è il risvolto finale tutti felici e contenti alcune volte di più alcune volte di meno qualcuno muore qualcuno sopravvive però sostanzialmente diciamo che il modus operandi di Rick Raordan si ripete di libro in libro e nonostante comunque secondo me funziona quasi sempre nelle storie di Rick Raordan nelle sfide di Apollo secondo me leggermente meno qui si è fatto davvero uno sforzo anche creativo minimo davvero molto molto minimo cioè il motivo per cui Nico parte insomma insomma uno dei motivi per cui questo libro non è non mi è risultato così tanto entusiasmante perché anche la trama stessa veramente molto molto debole detto questo comunque mi ha fatto enormemente piacere leggere di Nico sono felice che abbia un libro tutto suo e quindi ve lo consiglio se siete amanti di Percy Jackson però non iniziate da questo se vi approcciate per la prima volta a Percy Jackson perché uno non ci capirete niente e due non rappresenta secondo me l'essenza vera che Percy Jackson rappresenta nelle prime saghe bene ragazzi detto questo io ho finito la voce ho un calo di voce che non sto sentendo dentro quindi spero che questo video vi sia stato prima di tutto utile nel scoprire nuove storie da leggere o nel farvi un'idea se un romanzo potrebbe piacervi o meno quindi io vi aspetto nei commenti voglio assolutamente sapere la vostra opinione se alcuni di questi libri li avete letti che cosa ne avete pensato vi sono piaciuti non vi sono piaciuti vi rivedete in quella che è il mio parere oppure ne avete uno completamente opposto sono anche molto curioso di sapere quale sono le ultime letture che avete fatto voi in modo da prendere spunto anche dalle vostre e quindi ripeto vi aspetto nei commenti e noi ci vediamo a un prossimo video ciao a tutti ragazzi a un prossimo video